Ben trovati ad una nuova edizione di TGM, il telegiornale di media 24, che apriamo come al solito con la cronaca. Dobbiamo purtroppo dare notizia di un incidente mortale questa mattina lungo la strada 52 Biscarnica nel territorio di Sutrio, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate violentemente. Il bilancio è stato di un morto e di un ferito grave. La vittima è il 74enne Giancarlo Di Ronco, residente a Paluzza. Ed è stato denunciato ieri sera un triestino per furto aggravato in un supermercato. Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un triestino del 1983, già noto alle forze dell'ordine per precedenti giudiziari e di polizia. Reo di aver sottratto tre bottiglie di vino da uno scaffale di un supermercato di via Carpinetto. Un dipendente ha notato la sua condotta e lo ha seguito all'esterno sino alla fermata dei bus di via Valmaura, dove è assorta una rita tra i due. Riportata la calma, i due sono stati identificati dalle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul posto. Rinvenuto il mal tolto, dopo le formalità di rito, il triestino è stato deferito alla locale procura della Repubblica. È il soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia. È intervenuto questa mattina per recuperare ad oltre 2.000 metri di altezza, in una parete del Creton di Culzei, alla base della via Zanardi Landi, due alpinisti, uno dei quali ferito dopo essere precipitato per circa 6 metri a causa dello staccamento di una roccia alla quale era agganciata la corda. L'alpinista ferito, politraumatizzato, è stato stabilizzato e collocato nel materassino a depressione e imbarcato con una vericellata di più di 50 metri. Apriamo adesso la pagina della politica. Cresce la febbre in vista delle comunali di autunno. Aldo Curtarelli è stato a Caorle dove ha intervistato il candidato sindaco Marco Sarto. Marco Sarto, candidato alle elezioni comunali 2021 a Caorle. Lei è già stato sindaco di 10 anni, ma per quale motivo si è rimesso in gioco? Perché un gruppo di persone nuove con il mondo della politica mi ha chiesto di dare loro una mano, di mettere a disposizione la mia esperienza amministrativa che ho maturato appunto dal 2002 al 2012. È un'occasione, un'occasione per far crescere una nuova classe dirigente. Ecco, la prima cosa che farà quando sarà eletto sindaco che magari ha lasciato in eredità gli altri sindaci che magari poi non l'hanno fatta? Questo è un momento particolarmente difficile. La prima cosa che farò sarà tendere la mano a quelli che nella competizione non hanno prevalso, perché in questo momento di difficoltà c'è il bisogno dell'aiuto e della collaborazione di tutti. Poi c'è una questione che mi sta particolarmente a cuore, è la questione della sdemanializzazione di Falconera. Ecco, credo che in questi ultimi anni quelle famiglie siano state abbandonate. Hanno bisogno del sostegno dell'amministrazione, hanno bisogno del sostegno del loro sindaco. Ecco, Caorle è la città di Mare. La stagione è partita, prendiamo l'occasione anche per capire com'è iniziata, com'è sta andando e secondo lei quali sono le prospettive di quest'estate? Le previsioni sono quelle di un più 20-25% rispetto all'anno precedente, che vuol dire nel totale avere comunque una presenza turistica del 30% inferiore al periodo pre-Covid. Diciamo che Caorle è una località diversa perché è l'unico centro storico di mare del Veneto dove il nucleo dei residenti, il mondo della pesca vive a stretto contatto con il turismo. La storia, il territorio, l'offerta complessiva di Caorle fa effettivamente che questa città possa essere considerata diversa rispetto alle offerte turistiche tradizionali. Intanto gli faccio tanti auguri, magari prima della campagna elettorale avremo occasione di fare così un po' la somma di come sta andando e intanto in bocca al lupo. Le ringrazio, gli auguri sono ben graditi perché voglio dire il mondo della politica non è tutto sporco come si vuole far credere, credo che chi si impegna nel mondo della politica sia come obiettivo il bene comune, sia veramente una maniera nobile per offrirsi al prossimo. Siamo con il candidato consigliere alle elezioni comunali di Caorle 2021 con Luca Antelmo, già assessore, già consigliere nelle precedenti amministrazioni degli anni passati, una figura che conoscono bene a Caorle ma anche io che le sto facendo una domanda la conosco molto bene. Per quale motivo ha continuato poi a rimettisi in gioco? La ragione è sostanzialmente perché penso di poter dare ancora qualcosa a Caorle, penso che l'attività e il lavoro che avevo fatto in passato non era terminato e credo che ci siano buone opportunità per sviluppare molti aspetti della Caorle che ancora non conosciamo, sia dal punto di vista turistico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista imprenditoriale ci sono molte cose che vanno riviste, riguadagnate, alcune cose sono state fatte e fatte bene, tutto non va buttato via, va rivalutato, va rivalorizzato secondo un criterio culturale e un giudizio personale diverso. Ecco, lei in tanti anni di consigliere comunale avrà magari qualcosa che gli avrebbe piaciuto realizzare ma che in effetti poi non è mai riuscito. Sì, la cosa che mi stava molto più a cuore e mi starebbe a cuore anche come prospettiva è la costruzione e la definizione del teatro che abbiamo solo lasciato lì sperando che questa amministrazione lo compisse. In realtà sebbene fosse nel programma purtroppo non hanno mai messo un soldo a bilancio. La nostra e la mia prospettiva è di riportare al centro di Caorle, nel cuore di Caorle, dopo il campanile cilindrico e la chiesa che è un luogo culturale importante, dalla parte opposta del centro un luogo laico capace di dare voce a tutte le associazioni, a tutte le attività imprenditoriali e magari anche un cinema, chissà. Uno degli argomenti destinati invece a surriscaldare la campagna elettorale delle prossime comunali di Pordenone riguarda la questione del nuovo stadio. Il candidato sindaco Gianni Zanolin ne ha già fatto un proprio cavallo di battaglia. Sentiamo questa corrispondenza della nostra redazione di Pordenone. Nella campagna elettorale già animata di questi giorni si torna a parlare dello stadio di calcio. Il Pordenone, confermatosi in Serie B e costretto anche quest'anno ad emigrare in rivale adriatico al Teguil di Lignano, trova sponda nel candidato Gianni Zanolin che ribadisce il suo sostegno alla realizzazione di uno stadio in città. Pordenone ha dichiarato l'esponente politico ha diritto ad avere uno stadio di 16.000 posti, una struttura che secondo Zanolin dovrebbe essere considerata dalla regione come un vero e proprio centro servizi per un territorio molto più ampio della sola destra tagliamento. Non si riscontrano per il momento dagli altri candidati reazioni sull'argomento. Tuttavia il dibattito pubblico non sembra del tutto allineato sulle posizioni di Zanolin. Alcuni sostengono per esempio che il vicino stadio del Fontana Fredda, adeguatamente ristrutturato, potrebbe fare al caso del Pordenone calcio. Lo stadio di calcio è destinato sicuramente a non esaurire il confronto politico. Tutto dipenderà da molti fattori, non ultimo l'esito delle prossime elezioni amministrative. È giovedì, la rubrica L'autunno caldo di Pordenone vedrà la presenza in studio della candidata sindaca Anna Ciriani. Sul tavolo sono stati posti argomenti piuttosto interessanti e ve ne proponiamo uno stragio. Da che cosa nasce questa sua decisione di candidarsi a sindaco di Pordenone? Beh, io sono nata a Pordenone, sono sempre vissuta a Pordenone e sono cresciuta a Pordenone. Ho fatto le scuole a Pordenone, la mia famiglia vive a Pordenone e tuttora vivo a Pordenone. Quindi Pordenone è la città che io chiamo casa e che amo di più al mondo e quindi ho pensato adesso che diciamo ci sono queste amministrative di candidarmi proprio perché amando la mia città ho voluto creare un progetto per la mia città, per cambiare la mia città, migliorare la mia città. CGL, Cisle, Will e Fiedel hanno indetto uno sciopero generale mercoledì 30 giugno per il comparto di igiene ambientale. ASVO informa che nel corso della giornata potranno verificarsi di servizi nella raccolta dei rifiuti e che le isole ecologiche potrebbero restare chiuse. Verranno però garantiti i servizi essenziali. Torniamo adesso a Pordenone dove vi è stata l'attesa fumata bianca ai vertici di ambiente e servizi. Come avevamo già anticipato ieri Renato Mascherin è il nuovo presidente, una nomina alla quale si è giunti dopo le traumatiche dimissioni di Isaia Gasparotto. Un'elezione ad ampia maggioranza ma non unanime. Sentiamo a tal riguardo il punto del nostro editore Alberto Rossi. E così la montagna ha partorito il topolino. Topo mesi di polemiche durissime, fratture anche nei rapporti personali, si è consumato il cambio al vertice di ambiente e servizi. Società importante, plasmata dalle mani energiche di Isaia Gasparotto, ora cambia timoniere. Molti i mugugni, specialmente tra quei sindaci che non si sentono sufficientemente rappresentati nella stanza dei bottoni, equilibri politici che sono completamente saltati in nome di una realpolitik per alcuni indigesta. Resta aperto un tema fondamentale. Ha senso che nel territorio dell'ex provincia di Pordenone convivano due società concorrenti, SNUA e Ambiente Servizi, che peraltro creano modalità di raccolta dei rifiuti a macchia di leopardo, così che per esempio a Pordenone si seguono determinate modalità, mentre nella vicina Porcia si faccia in tutt'altro modo. Dov'è il vantaggio per i cittadini che si trovano a pagare tariffe differenti pur risiedendo in ambiti urbani contigui? Il sindaco di Arzene Valvasone, Marcus Murmaier, lo ha detto nel suo intervento. Serve lavorare per una società unica del Friuli occidentale. È auspicabile che questa sia la direzione di marcia della nuova dirigenza, perché in gioco non sono le alleanze politiche o gli equilibri territoriali, ma gli interessi dei cittadini e la qualità della loro vita. Un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali del PD Moretti e Conficoni ha riportato al centro del dibattito politico in Friuli, Venezia e Giulia l'attuazione della rete oncologica regionale. Vediamo. Un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali del PD Moretti e Conficoni ha riportato al centro del dibattito politico in Friuli, Venezia e Giulia l'attuazione della rete oncologica regionale. La rete, affermano i due esponenti politici, era ed è un obiettivo sempre più necessario per coordinare i diversi reparti di oncologia operanti nelle aziende sanitarie regionali. La sollecitazione nasce dal documento redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel quale si richiamano alcuni punti critici del piano del Friuli-Venezia-Giulia. In particolare, secondo Moretti e Conficoni, non è stato ancora attuato quanto già previsto nel 2019 nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, e cioè la revisione delle linee guida organizzative per la rete oncologica regionale, che integra l'attività ospedaliera per acuti e post-acuti con i servizi territoriali di base. Andiamo adesso ad Odelzo, dove in merito alle nuove tariffe sui rifiuti si sono registrate le proteste di confartigianato. La confartigianato di Odelzo e Motta è determinata a presentare ricorso contro la delibera con la quale il Consiglio di Bacino ha approvato le tariffe sui rifiuti, non tenendo conto delle osservazioni che l'Associazione di Categoria aveva presentato basandosi su una circolare del Ministero dell'Ambiente. Si dice che le tariffe non vanno calcolate su tutta la superficie dell'azienda, come avviene adesso, bensì su quella dove effettivamente vengono prodotti i rifiuti, specifica Armando Sartori, presidente di confartigianato. Sono cinque anni che insistiamo su questo punto, ma il Consiglio di Bacino non ha inteso ragione. Speravamo nell'Assemblea, abbiamo inviato una mail a tutti i sindaci, ma non c'è stato alcun risultato. Il Comitato Civico Tutta e un'altra Portoguaro organizza per giovedì 1 luglio una iniziativa informativa sugli asili nido di Concordia e Portoguaro. Vediamo. Giovedì 1 luglio dalle 18.30 alle 20.30 presso la Biblioteca Civica Bettoni di Portoguaro si terrà un incontro formativo pubblico sui nidi di infanzia con la formatrice Paola Sartori, esperta del settore, organizzata dal Comitato Civico Tutta e un'altra Portoguaro. Lo scopo dell'iniziativa è avviare un percorso informativo e un dialogo con la comunità in merito ad un servizio importante come quello del nido. Il tema è di grande attualità sia a livello di politiche nazionali ed europee, ma anche nelle comunità di Portoguaro e Concordia Sagittaria, afferma Raffaella Guerra, membro del Comitato e coordinatrice della serata. Infatti nel corso dell'incontro a cui abbiamo invitato i due sindici dei comuni interessati, come Comitato Civico chiediamo quale sarà il futuro del nido comunale di Concordia Sagittaria e come sarà quello di Portoguaro, la cui realizzazione ha interessato negli ultimi mesi la stampa. È chiaro che un servizio come questo deve essere realizzato con standard di qualità alti, non è sufficiente una struttura e neanche la mera erogazione del servizio. Per essere utile a livello formativo deve seguire delle linee pedagogiche ben definite sia per gli spazi che per il personale. Solo così si concretizzano servizi di qualità e si avvicinano le famiglie alla fruizione di un servizio utile non solo ad allocare i bambini. È chiaro anche che senza una politica sulle tariffe lo sforzo è inutile. Come Comitato chiediamo che il servizio sia accessibile economicamente a partire dalle famiglie con più difficoltà. La rete dei nidi sono di norma alte e una famiglia spesso non può permettersi di pagare un servizio del genere, specie se ha più di un figlio. Si è svolta a Trieste la commemorazione per la strage di Dacca. Condivido le parole delle famiglie. Questo è stato un attacco non soltanto a delle persone drammatico ma a un paese, l'Italia. La generosità di queste persone che sono andate a portare le nostre esperienze per aiutare un altro paese sono state devastate da un fondamentalismo islamico che ha ucciso persone e che ha colpito in modo devastante. Questo mi auguro possa servire da monito affinché non si giustifichino più con strane e particolari costruzioni un fondamentalismo islamico che ancora oggi sta uccidendo e sta portando devastazione. Mi riferisco a coloro che vogliono minimizzare a parlare di persone psichiatriche, persone con problemi mentali non è così. Il fondamentalismo islamico è da combattere a tutela delle libertà e dei diritti che il nostro paese, che l'Occidente ha conquistato. Cinque anni dopo, Presidente, lei ha sottolineato il fatto che ci sono avvenimenti che non vanno dimenticati ma anche non solo ricordati. Ci sono dei passi che queste famiglie già hanno chiesto e il Consiglio sarà con loro. Certo, il momento in cui avviene una tragedia muove un sentimento comune, generale, un'attenzione. Poi col tempo questo magari si affievolisce. Il Consiglio regionale abbiamo voluto invece ricordare a cinque anni da questa tragedia che il Consiglio regionale e la comunità regionale è vicina a queste famiglie e dimostra loro solidarietà, proprio per aiutarle a superare un orrore che è altrimenti incomprensibile. Famiglie che tra l'altro hanno sempre pensato e dichiarato di non volere la stessa violenza per coloro che hanno compiuto atti così tremendi nei confronti dei loro congiunti. E quindi è un esempio, credo, essere qui non solo perché la memoria va ricordata, va alimentata, perché le cose non succedono più e per aiutare queste famiglie, ma anche perché il messaggio che hanno dato loro è un messaggio d'amore, che credo sia la cosa fondamentale che devono trasferire loro figli. Loro chiedono giustamente, essendo questi i lavoratori italiani all'estero, il riconoscimento di una medaglia al valore civile perché stavano portando la loro competenza in quei paesi in via di sviluppo e il Consiglio regionale su questa richiesta fatta al Capo dello Stato è a fianco di queste due famiglie di friulani. Lei ha detto che non sono state attaccate soltanto le vostre famiglie, ma l'Italia intera? Sì, perché il gruppo, la forza, il modo di fare che avevano instaurato in quel territorio veniva anche riconosciuto dalla popolazione. Gli operai in Bangladesh avevano piacere per lavorare per gli italiani perché veniva riconosciuta in parte una dignità, un rispetto per il lavoro che loro facevano. Era un modo che avevano loro di inserirsi in quel territorio. E nel momento in cui quella notte è stato eliminato questo gruppo, è stata eliminata una parte dell'Italia in quel territorio. Quindi a tutti gli effetti è stata colpita l'Italia. Che cosa dire oggi ai figli di chi è stato ammazzato? Lei e lo zio. È difficile perché passano gli anni però gli sguardi sono sempre molto difficili da raccontare perché sono sempre degli occhi che ti guardano e ti chiedono una risposta che è difficile da dare. Quindi bisogna dirgli che comunque la vita, bisogna cercare di rispettarla, di rispettare gli altri e cercare di farsi rispettare. Perché se noi siamo così oggi è perché qualcuno si è sacrificato per noi prima. Quindi nel rispetto di chi si è sacrificato dobbiamo cercare di andare avanti. A Motta di Livenza si è svolta lo scorso fine settimana l'ottava edizione della rassegna motoristica Happy Days. Grande successo nonostante le problematiche legate alle limitazioni in materia di anticontagio. Il nostro corrispondente Luca Curtarelli ha avvicinato l'organizzatore Marco Andrichetto. Ci troviamo qui al Parco Spinade a Motta di Livenza con me Marco Andrichetto, ideatore di questa bellissima festa che si è Happy Days. Happy Days si rievocano naturalmente gli anni d'oro dell'America. Allora Marco, una festa che ha vista riuscitissima, questa è l'ottava edizione. Raccontami un po' cosa c'è di bello. Allora praticamente intanto ringrazio tutti per avermi aiutato a risolvere, a fare questa festa perché non è semplice fare questa festa in questo periodo. Comunque ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta. Ringrazio Motta, ringrazio la Proloco, ringrazio il Comune e ringrazio chi mi ha dato una mano, lo staff. Questa è l'ottava edizione, è una festa rock'n'roll anni 50-70 di macchine, moto e gente che ama divertirsi e ama ballare. Sicuramente è una rivecazione degli anni d'oro dell'America. Ho visto tantissime auto di pregio che arrivano un po' dappertutto. Da dove arrivano più o meno? Dall'Emilia Romagna, dopo arrivano anche dalla Lombardia, arrivano dalla zona di Bolzano, arrivano un po' da tutto il nord Italia, diciamo. Forse c'è qualcosa anche dal centro Italia. E allora appuntamento alla non edizione? Spero proprio di sì, io ce la metto tutta. Per lo sport è stata una domenica d'oro, quella scorsa per il triatleta porderonese Mauro Gava in Austria si è laureato campione europeo. Ennesimo importante successo per Mauro Gava, atleta del triathlon Team Pezzutti che domenica 27 giugno ha dominato gli europei di triathlon medio-para che si sono tenuti in Austria. Gava, che ha gareggiato in rappresentanza della Fitri nella categoria PTS5, era fresco del titolo italiano conseguito la scorsa settimana a Marina di Massa. La gara si è rivelata molto impegnativa. Dall'acqua non è uscito per primo, ma ha comunque deciso di non darsi subito all'inseguimento perché, forte di una lunga esperienza su queste distanze, era consapevole della necessità di gestire al meglio tutte le frazioni per calibrare bene le energie. E così è sempre rimasto in scia ad un atleta russo che lo precedeva anche in bici, mentre ha imposto il definitivo cambio di marcia nell'ultima frazione di corsa, superando il diretto avversario e andando a tagliare il traguardo davanti a tutti, concludendo in tal modo la gara con un crono totale di 4 ore e 52 minuti. Ho già affrontato diverse gare su queste distanze e ho imparato che vanno gestite con la testa, ha dichiarato Gava. Sono molto soddisfatto perché non ho mai avuto cedimenti. Nonostante un principio di crampo alla gamba, l'uscita della prima frazione a nuoto mi abbia preoccupato. Fortunatamente poi il fastidio è rientrato e non mi ha creato più alcun problema. A margine dell'inaugurazione del nuovo campo dal rugby portuguaro intitolato Anando Ceola, il neopresidente regionale Sandro Trevisan ha parlato anche del nuovo corso del rugby veneto. Con il neopresidente regionale Trevisan analizziamo un po' lo stato di salute del rugby veneto e magari anche in particolare veneziano. Allora chiaramente quest'anno e mezzo di pandemia ha creato innumerevoli problemi in tutte le società, però il mondo del rugby è un mondo che non si ferma mai, che non muore mai, per cui tutte le società sono veramente all'opera, sono molto attive, molto dinamiche per affrontare la ripartenza dei campionati che sarà tra il mese di settembre e il mese di ottobre. La federazione stessa con l'elezione del nuovo presidente Marzo Innocenti sta lavorando proprio in questo senso, dotando di strumenti che possano agevolare l'attività delle società. È chiaro che come comitato regionale il nostro obiettivo oggi è di riacquisire per prima cosa i numeri che avevamo prima della pandemia, ma dopo soprattutto potenziarli con tutta una serie di attività che andremo a fare di sviluppo sia a livello di tutto il mondo della scuola, in coordinamento con il progetto nazionale e soprattutto, che è la cosa più importante, oggi i giovani per il tipo di vita che fanno, per quanto tempo sono sedentari, abbiamo bisogno di avere delle strutture di preparatori sia atletici che di psicomotricità che possano intervenire in maniera importante all'interno della società e aiutare gli allenatori e i preparatori atletici delle società ad essere veramente preparati ad affrontare questo momento così difficile. Ed era questa la nostra ultima notizia, il telegiornale di Media24 finisce qui, vi lascio alle previsioni del tempo e alla rubrica Politica24. Noi ci rivediamo nelle prossime edizioni, sempre qui sul canale 606 del Digitale Terrestre. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.